ho raccolto da internet alcune parti di video di gatti pochi secondi ascoltiamo che cosa hanno da lì a ci ecco sembra che questi gatti vogliono parlare praticamente dobbiamo infatti fare una considerazione se la logica il logos la parola è come abbiamo detto soltanto la memorizzazione di percezioni sonore che sentiamo ripetere e ripetere attorno a noi e che poi a partire da quando siamo in tenera età cominciamo a ripetere noi stessi a emettere dei suoni simili e vediamo quale reazioni generano parole frasi se la logica alla fine non è altro che questo e infatti non è altro che questo e nient'altro può essere deve essere possibile esplorare sperimentalmente facendo degli esperimenti nuovi le conseguenze di questo fatto per esempio ne deve seguire che qualunque specie vivente sufficientemente evoluta deve essere in grado di parlare prima di arrivare a costruire la vita artificiale di cui parlo nel mio libro e in questo canale la cosa più semplice potrebbe essere quella di insegnare a parlare a delle altre specie viventi sono stati fatti esperimenti che vanno in questa direzione per esempio a degli scimpanzeo dei gorilla sono stati insegnati il linguaggio dei segni con i quali è stato possibile vedere che anche loro possono costruire delle semplici frasi ma qui si vorrebbe spingere verso esperimenti un po più sofisticati per raggiungere dei risultati molto più avanzati cioè insegnare letteralmente a un animale a parlare a pensare a elaborare i propri pensieri e esprimere come esattamente come facciamo noi ma qual è la difficoltà la difficoltà principale è che per esempio nel caso dei gatti come abbiamo appena sentito le corde vocali loro non permettono loro di emettere dei suoni simili ai nostri abbiamo delle corde vocali diverse così come negli scimpanze né i gorilla ora la maniera più invasiva potrebbe essere quella in alcuni casi potrebbe anche avere un senso di intervenire con delle operazioni per costruire o ricostruire delle corde vocali più simili alle nostre oppure la maniera più facile più semplice è quella di adattare noi il linguaggio alla varietà sonora della forma di vita che ci interessa della specie che ci interessa per esempio nel gatto abbiamo appena ascoltato una varietà di diversi suoni che è in grado di emettere dovremmo quindi sviluppare un linguaggio un gattese diciamo così adatto alle sue corde vocali e tradurre ogni volta quello che noi pensiamo magari attraverso un app sul telefonino in suoni che lui possa emettere perché altrimenti non arriveremo mai ad ottenere il risultato per esprimere dei pensieri abbastanza articolati non ci vogliono tantissime parole ne possono bastare 100 200 con una grammatica molto semplice come quella di alcune lingue che non necessitano di una grammatica sofisticata e la varietà di suoni che un gatto riesce ad emettere secondo me è sufficiente per fare questo esperimento si tratta quindi per prima cosa di sviluppare un linguaggio che il gatto possa articolare delle parole traduzione delle parole nostre in una certa varietà di suoni più simile possibile a quelle che può emettere un gatto e ovviamente si può anche fare la cosa scientificamente andando ad analizzare tutte quante le frequenze e i suoni che il gatto emette per poi riuscire con un'app ad emettere suoni simili semplificare ovviamente il linguaggio al massimo con 100 200 300 parole chiave codificate da altrettanti suoni che potremmo cercare di emettere noi forzando appunto la nostra voce oppure fare mettere da un dispositivo come un app sul telefonino quando siano troppo difficili per noi ma in modo da rendere le parole quei suoni il più vicino possibile a quelli che il gatto può riemettere una volta che li sente perché questa è la chiave il cane e il gatto probabilmente memorizzano molte delle nostre parole molti dei nostri suoni però non riescono a fare il passaggio successivo cioè riemetterli loro e poi fare il terzo passaggio che è quello del confronto avanti indietro tra quello che sentono e quello che emettono fino ad arrivare a sintonizzare le due cose il caso del cane è più difficile perché i suoni che emette sono meno adatti a sviluppare un linguaggio canese diciamo così più immediato per noi anche se sono sufficientemente variegati pure quelli nel gatto ne abbiamo una varietà a disposizione già sufficiente secondo me per provare senza nemmeno fare una grande analisi scientifica di tutti i suoni che può emettere semplicemente provando con la nostra voce però richiede tempo questo è un esperimento che richiede tempo perché dovete immaginare che cosa richiede quale sforzo richiede portare un essere vivente un bambino appena nato alla parola quanto tempo richiede richiede anche di stare col fiato sul collo del bambino per tutta la vita nei primi mesi di vita notte giorno quasi e quindi richiede tempo pieno una full immersion 24 ore su 24 quasi oppure comunque durante la veglia in modo completo perché che cosa succede se un essere umano appena nato viene abbandonato a se stesso in mezzo alla foresta e nessuno emette quei suoni che lui potrebbe poi riprodurre non impara a parlare punto allora cosa diciamo di quell'essere che è privo di logica perché la logica è il logos è la parola appunto bene questa è la condizione di molte forme di vita di molti animali che però secondo me hanno già la possibilità di emettere una grande varietà di suoni e quindi come un bambino abbandonato nella foresta a caso di tarzan per esempio è un essere che riesce in principio di mettere una grande varietà di suoni ma non è accompagnato fino al punto da poterli utilizzare per costruire quella che noi chiamiamo parola e poi quello che chiamiamo pensiero ma questa possibilità secondo me c'è lì pronta per noi per essere sfruttati per portare questi esseri viventi alla parola alla parola articolata e quindi al pensiero per dimostrare a chi non credesse al fatto ovvio banale che la parola non è altro che la memorizzazione di un insieme di suoni che quindi anche la logica e il pensiero lo sono che si può portare qualunque essere vivente a pensare a parlare e quindi a pensare a fabbricare il proprio pensiero e quindi a vedere nel senso con cui noi vediamo ovviamente anche senza la parola l'essere vivente abbastanza evoluto come per esempio un gatto ha una forma di pensiero comunque che si basa su ricordi di percezioni visive soprattutto in altre lingue come per esempio nelle lingue asiatiche nelle lingue basate sugli ideogrammi come il cinese anche in quel caso gioca un ruolo importante non soltanto la memorizzazione sonora ma anche la memorizzazione visiva se voi conoscete un po' di cinese sapete che guardando un carattere spesso anche se è un carattere nuovo che non avete mai visto prima potete immaginare che cosa significhi soltanto vedendolo e da certe sue caratteristiche potreste anche indovinare la sua pronuncia quando conoscete un numero sufficiente ovviamente di altri caratteri però questo riguarda la scrittura e quindi questa parte di memorizzazione della lingua la memorizzazione visiva riguarda soltanto la scrittura la memorizzazione sonora invece è quella chiave per la parola il linguaggio parlato e poi il pensiero si può sviluppare sulla manipolazione di questi ricordi di percezioni sonore o visive perché anche la forma scritta può aiutare il pensiero evidentemente mentre nel caso del gatto o dell'animale sufficientemente evoluto è evidente che una forma di pensiero interno esiste attraverso la manipolazione di ricordi di percezioni visive qualunque come può essere per esempio nell'elaborazione di un sogno durante la notte è comunque un'attività del cervello comunque comunque un'attività che possiamo associare al pensiero bene per arrivare quindi al logos cioè alla parola non ci vuole altro che una costante dedizione metodica sistematica per riuscire a permettere a questi esseri viventi di articolare i suoni che riescono comunque già da articolari in una maniera finalizzata a comunicare con degli altri esseri viventi che possono essere poi loro stessi tra di loro oppure con noi esseri umani è evidente che se si vuole fare questo esperimento con i gatti bisogna partire da delle razze abbastanza intelligenti il gatto comune forse non è la strada più conveniente da percorrere perché sarà pure possibile ottenere i risultati ma sarà più facile se partiamo da una razza intelligente come per esempio mi viene in mente il blu di russia che a quanto apprendo da certi video che vedo su internet può imparare facilmente ad aprire delle porte manipolando addirittura le maniglie soltanto per averlo visto fare degli esseri umani e quindi è chiaro che nel suo cervello avviene già una forma di pensiero di rielaborazione dei ricordi delle percezioni visive e che riesce a ripetere qualcosa che per lui sarebbe molto difficile da concepire però riesce a ripeterla soltanto per averla vista fare da qualcun altro e quindi è evidente che se noi elaboriamo un gattese una lingua nella quale ci siano 100 200 300 parole chiave della nostra lingua tradotte però in suoni che anche loro possano riprodurre suoni che noi possiamo emettere e che loro possono riprodurre probabilmente si riesce a trovare qualche centinaio di combinazioni di suoni che noi possiamo emettere che anche loro possono riprodurre a questo punto l'unica cosa che manca è prendere un gatto di una razza sufficientemente intelligente fin dal momento della nascita e immergerlo dalla mattina alla sera in questo tipo di interazione con noi nella quale lo portiamo come un bambino a parlare letteralmente e quindi lo abituiamo alla percezione di certi suoni ripetitivamente associati a certe azioni a certe cose che lo circondano finché non comincerà ad emettere quei suoni nel caso di un bambino se voi con dei video registrate le sue emissioni sonore prima che impari a parlare vedrete che all'inizio ovviamente sono emissioni completamente casuali però nella fase successiva prima che cominci a parlare emette suoni sufficientemente articolati senza alcun senso perché comincia a capire che gli altri intorno a lui o a lei parlano emettono dei suoni articolati e si sforza di fare altrettanto credendo che quell'emissione sia soltanto un'emissione di suoni senza capo né coda sostanzialmente ma lo potete osservare in qualunque bambino c'è una fase intermedia tra i vagiti della prima ora e il momento in cui comincia a parlare nella quale comunque si sforza di imitare quello che sente intorno a sé non avendo ancora dissezionato tutte quante le sonorità e quindi non essendo ancora in grado di emettere dei suoni coerenti ma esattamente come abbiamo appena sentito da parte di questi gatti sforzandosi di imitare alla bella e meglio quell'insieme di suoni che sono parole che lui percepisce ma che non riesce ancora a decifrare quindi percepisce un po come un tutt'uno e ci prova lo si può vedere che ci prova perché capisce sostanzialmente che al di là di sotto di queste percezioni c'è qualcosa di importante che gli può essere utile quindi l'unica difficoltà nel caso appunto di questi animali è quella di della costanza del lavoro costante per costringerle letteralmente come si fa però con un bambino perché nel momento in cui si continua a dirgli di non fare questo di non fare quell'altro non si fa altro che proibirgli tutta una serie di comportamenti che altrimenti continuerebbero ad essere abbastanza disordinati casuali e quindi bisogna costringere l'animale a focalizzare l'attenzione e questo lo si può fare soltanto con lo stesso metodo con cui si ottiene lo stesso risultato con un essere vivente cioè praticamente 24 ore su 24 o almeno durante tutta quanta la veglia per mesi probabilmente per anni ovviamente io non ho un tempo del genere e vorrei fare un esperimento come questo su un gatto di qualche razza intelligente però non lo posso fare ma se c'è qualcuno che lo può fare sarebbe interessante conoscere il risultato di questo esperimento cioè se è vera la mia ipotesi è possibile insegnare a parlare a qualunque forma di vita sufficientemente evoluta e non sto parlando appunto di creare dei fenomeni da baraccone come trovate appunto in giro su internet come insegnare a ripetere meccanicamente dei suoni a dei pappagalli o altro ma fare fare a un animale come un gatto esattamente quello che facciamo noi oppure permetterle di arrivare a fare quello che fa per esempio un bambino di due anni si dice in giro si legge in giro che l'intelligenza di un gatto è come quella di un bambino di due anni non si capisce bene come si possa determinare qualcosa del genere quindi secondo me sono affermazioni un po varie ma possiamo prenderle anche alla lettera se l'intelligenza di un gatto è quella di un bambino di due anni benissimo possiamo far parlare perché un bambino di due anni lo possiamo far parlare dopodiché potremmo anche vedere se grazie all'uso della parola non si svilupperà ancora di più quelle intelligenze magari non raggiungerà quella di livello di un bambino di quattro anni che sarebbe più che sufficiente perché avreste realizzato un po quello che nel mio romanzo si chiamano quei cupette quei pudroidi quantistici che alla fine sono pensati per fare compagnia agli esseri umani e che sono in quel caso realizzati in modo artificiale completamente artificiale sfruttando le proprietà della fisica mantistica ma che in questo caso sarebbero realizzati a partire dai semplici pet cioè dagli animali domestici che già ci sono e che però dovrebbero essere portati a un livello superiore di intelligenza attraverso una nostra interazione costante con loro per insegnare loro a parlare letteralmente anche per dimostrare quindi che la logica non è altro che questo alla fine altro non è che questo insieme di percezioni e una manipolazione di percezioni bene se qualcuno ha intenzione di fare questo esperimento me lo faccio sapere nei commenti se qualcuno può farlo perché anche qualcosa che richiede un certo investimento di tempo di sforzo spero che un giorno riusciamo ad avere dei gatti parlanti come si è fantasticato in tanti romanzi o storie o favole o fiabe ma che non si è mai voluto cercare di realizzare non so perché perché io penso che sia qualcosa assolutamente alla nostra portata è probabile che ci siano dei blocchi a pensarle certe cose per realizzarle quando sono perfettamente realizzabili e alla nostra portata e per cui alla fine ci neghiamo tantissime possibilità che in realtà ci sono già e sono a nostra disposizione grazie della partecipazione e mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di abilitare le notifiche in modo da restare costantemente aggiornati sui nuovi video e le nuove iniziative vi raccomando anche due libri dalla fisica alla vita viaggio nell'infinitamente piccolo e ritorno e l'involuzione del pensiero scientifico come la civiltà perde conoscenza che sono molto utili per seguire le problematiche che affrontiamo in questo canale se potete spargete la voce sui social e se avete delle domande o dei suggerimenti lasciateli nei commenti alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.